questa è una visita a san francisco san francisco la perla del pacifico è stata qualificata per il suo contributo chinatown laccata di rosso con duco e misteriosa come charlie chan locali che esplodono dall'imbrunire all'alba con le belle topless stupende ragazze da fare impazzire sono spettacoli che hanno reso famosa san francisco che hanno avuto grande successo non soltanto negli stati uniti ma anche in europa grandi riviste nazionali come life playboy e squire hanno scritto molto delle topless il modo di esprimersi e la mania di cambiare hanno coinvolto moltissima gente pigal non ha segreti al mercato del piacere una di queste zone l'etual dove ci sono i famosissimi lido e il sexy illuminati a giorno con riflettori puntati sui topless il famoso mondo del crazy or salon questo locale presenta l'ardente spettacolo della bravissima yvette le grand che difficilmente si può dimenticare vediamo la nostra brunetta la formosa cowgirl del west mentre tempestosamente agita il suo corpo nel più ardente spettacolo topless che sia mai stato realizzato al crazy or saluto a Chinatown, Charlie Chan